Qui, al primo piano di questa casa di Borgo Bernabei, per due anni, dal maggio 1921 al maggio 1923, abitò il principale protagonista della resistenza contro la spedizione fascista, vale a dire Guido Picelli. Guido Picelli nel 1922 aveva 32 anni, ma aveva alle spalle già una formazione politica e militare piuttosto solida, era stato in guerra, era diventato sotto ufficiale e si era guadagnato una medaglia al valore. Al ritorno dal fronte aderisce al Partito Socialista e ne diventa un dirigente locale di rilievo. Nel luglio 1920 viene arrestato per alcuni scontri con le forze dell'ordine e ritorna in libertà dieci mesi dopo, quando è eletto deputato alla Camera con i voti del rione e del quartiere. Una volta tornato in libertà organizza Parma la milizia degli arditi del popolo. Di fatto la sua casa diventa la sede degli arditi del popolo. Lo sappiamo perché diverse perquisizioni della polizia trovano pistole, armi, esplosivi e trovano materiale di propaganda e trovano anche la bandiera dell'organizzazione. È un panno nero con le frange dorate al centro del quale è ricamato un teschio dagli occhi rossi con un pugnale tra i denti. Ora possiamo capire come mai anche questo rione si solleva durante le giornate dell'agosto costruendo barricate e sbarramenti non solo per la difesa delle proprie case ma si tratta anche di difendere un obiettivo sensibile, la casa del comandante degli arditi del popolo, la casa di Guido Picelli. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!